Ecco il calcio di punizione, sbuca Ravanelli, anticipa tutti e mette dentro. Vedete Ravanelli non sicurissima l'uscita di Taglia Latela. Juve ancora in contropiede, il cross è a favore di Vialli che tocca per Conte, il quale viene chiuso. Poi però subentra Del Piero e il suo gol è un autentico gioiellino. Lo rivediamo anche da quest'altra angolazione, vedete un gol voluto sul palo più lontano, molto molto bene.